Ciao, io sono Emanuele e vivo a Salina, alle Isole Olie. Qui a Salina posso fare tante cose, come i bambini che vivono in città. Posso andare alle feste, posso andare al parco giochi, posso andare a scuola. Qui a Salina posso fare anche delle cose molto speciali, tipo andare in barca con mio papà, oppure fare delle bellissime escursioni a Montefosso o a Vallespina, oppure raccogliere l'amore per strada. La mia sorellina Lucia, che si crede sempre una principessa. Beh, sapete, qui a Salina io non mi sento nessuno né isolato, perché? Innanzitutto perché a scuola imparo tantissime cose, e anche a casa la mia mamma e il mio papà mi spiegano molte cose. Poi perché soprattutto in estate vengono turisti da tutto il mondo, e mi insegnano tantissime cose, anche a cucinare. Guardate queste due, per esempio. Io sono Mirna, vengo da Bologna, e queste sono le alici che preparo alla maniera romagnola. Le preparo per Emanuele, a cui piacciono tanto. Una volta che le alici sono state deliscate, vengono passate nell'uovo, e poi nel pane grattugiato. Vedi Emanuele, queste sono le alici che faceva sempre a mia mamma, noi bambini, quando eravamo piccoli, perché non mangiavamo il pesce con le lische. E io le faccio per te. Questa è Giulia, la mia amica americana. E questo Emanuele, mio amico italiano. E oggi stiamo preparando pranzo insieme. E Emanuele, tagli è lì questa anguola. Bravo, molto, molto bravo. Sì, 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 va bene. E anche oggi noi stiamo preparando una salsa. Io ho una ricetta da America e io porto in Italia. Ciao, venite a trovarmi a Salina. C'è anche tu, dimmi. Ciao, venite a me, a Salina.